Dalla sofferta decisione del commissario delle IPAB riunite, Pastore San Pietro, di mandare a casa dieci bambini disagiati e di non farli partecipare nemmeno alle attività estive, sono trascorsi alcuni giorni, ma dal comune di Alcamo non è arrivato ancora alcun segnale. Il commissario Vito Giuliana ha soltanto avuto un contatto con la parlamentare regionale Valentina Palmeri Alcamese, che già altre volte si era occupata della situazione economica spesso disastrosa di questi istituti che svolgono un'importante attività sociale. A far storcere ai musi anche un attento esame del bilancio comunale, circa 600 mila euro per i cani, dall'ospitalità nella struttura di Rocca di Neto al rifugio sanitario e ad altri servizi, e poco più invece di 300 mila euro, la metà, rette comprese, per i bambini disagiati e bisognosi di aiuto. Le IPA balcamesi riunite non hanno ricevuto dall'assessore Stefano Alessandria e nemmeno dal sindaco Domenico Surdi segnali di una possibile collaborazione. Perché di collaborazione si tratta? Il commissario Vito Giuliana, infatti, aveva chiesto all'amministrazione comunale non il pagamento delle 10 rette non più finanziate dall'ente locale, bensì alcuni aiuti, quali l'utilizzo gratuito degli scuolabus con autista per portare al mare e altrove i bambini e l'invio di un assistente che potesse vigilare durante l'espletamento delle attività. Nessuna risposta da parte della comune di Alcabo. Per completezza di informazione bisogna anche sottolineare come, rispetto al precedente bilancio, le somme assegnate per le rette in semiconvitto dei bambini disagiati siano rimaste praticamente invariate, è sempre la metà di quelle dedicate agli amici a quattro zampe, e che le IPAB riunite Pastore e San Pietro avessero ugualmente incrementato di sei unità con la gestione commissariale di Cesare Maddalena il numero di bambini ospitati. Un'intesa con la giunta Sordi che è andata avanti per un paio di mesi e che poi si è interrotta. Adesso il nuovo commissario, l'architetto partinicese Vito Giuliana, non ha più potuto garantire gli aiuti a dieci sfortunati bimbi che, senza la collaborazione del comune di Alcabo, non potranno partecipare alle attività estive, ludiche e formative, già pronte a partire grazie anche al protocollo firmato con il comitato locale della Croce Rossa.